Novo appuntamento con Baschettando dalla Chemical a domenica, la vigilia della partita clou, della partita più importante della stagione per la Paffoni. Speriamo che sia la prima partita più importante e poi ne seguono altre nei prossimi giorni. Domani gara 5 al Palabattisti alle 20.30 contro la Becchia di Piacenza che ha saputo agguantare la serie riportandola sulla 2-2 dopo le prime due vittorie della Paffoni davanti al proprio pubblico. Insieme a noi per presentare la sfida, per capire come sta la squadra e dove si può vincere questa partita, Andrea D'Agnello. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. E Francesco Fratto. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. Allora cominciamo direi dalle ultime due partite. Si è avuta la sensazione, io le ho viste entrambe, che si è mancato davvero un centesimo per fare un euro. Forse addirittura di più in gara 4 che in gara 3. Forse il ramarico maggiore è legato al fatto che in gara 3 sul più 1, 3 o 4 possessi dove non si è trovato il canestro e forse lì con altri punti la partita la si portava a casa e di conseguenza la serie. Stesso discorso per gara 4 dove il vantaggio addirittura era su più 5 a metà dell'ultimo quarto. Francesco e poi Andrea. Sì, sono d'accordo anch'io, è stato anche il punto su cui abbiamo focalizzato l'attenzione in gara 3, 3 o 4 possessi dove con un punto di vantaggio non l'abbiamo trovato canestro, non l'hanno trovato neanche loro. però sono venuti a mancare punti fondamentali poi al fine della partita. In gara 4 siamo stati bravi a rimanere punta a punta, a fare una partita di 60 punti che sul campo loro potevamo portarla via. Magari visto non arrivare a un punteggio alto, viste anche le assenze io ci metto anche tanta sfortuna perché comunque il canestrone di Banti e poi la super difesa su Alex, diciamo che più di così sarebbe stato difficile, sarebbe stato tanto chiederlo. Anche se come abbiamo già visto stamani e tutto, errori ci sono stati, errori ci sono stati quindi ripartiamo da questo. Andre? Guarda, io penso che in gara 3 probabilmente Piacenza ha fatto una gran partita, nel senso che ha messo dei canestri pesanti, momenti importanti e decisivi. Mi viene da pensare al canestrone di Samoggia sul più uno per loro a 40 secondi dalla fine. Gara 4 è stata decisa dagli episodi, nel senso la sfortuna di non avere Diego ma anche il fatto di perdere Giacomo a metà partita per un infortunio al dito e ci ha un po' penalizzato. Noi siamo stati bravi comunque a mantenere la testa sul campo, a giocarci la partita e veramente ci è sfuggita per un niente. Io penso che dal mio punto di vista se avessimo vinto nessuno poteva dire niente perché ce lo meritavamo. E quindi adesso speriamo domani di far valere il nostro fattore campo e di distruggerli proprio. Allora, più 7, sembra 68-61 in gara 1, 60-53 in gara 2, quindi nel doppio confronto casalingo 15 punti di differenza. Più 5 è Piacenza e più 1 è Piacenza in gara 3 e in gara 4. Possiamo dire che i valori sono davvero molto molto vicini tra le due squadre. Questo è già forse un primo successo per voi, nel senso che si è sempre detto che quando la Paffoni o comunque qualsiasi squadra del Girona avrebbe poi incrociato le magnifiche 4 del Girone B sarebbero stati Polpette e Piselli. In realtà non è stato così, in realtà questa serie sta dimostrando di essere equilibratissima. Quindi già una piccola rivincita nei confronti di qualche detrattore credo che ci possa essere, no Andrea e Francesco? Ma sicuramente, sicuramente tutti dicevano come hai detto te che appunto il Girone B era un Girone inarrivabile nel senso che le quattro corazzate avrebbero asfaltato tutti quanti. In realtà poi così non è stato, nel senso che sì, noi abbiamo fatto un'ultima parte di stagione e soprattutto in trasferta è disastroso. Infatti non avevamo un buon auspicio per i play-off. Poi ai play-off abbiamo cambiato completamente mentalità, abbiamo avuto una mentalità unita e vincente e abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque, nonostante la sfiga che continua a perseguitarci. e ci auguriamo appunto di non finire qua, nel senso di fare una gran partita domani e poi andare alla finale a dimostrare che noi ce la meritiamo. Francesco? Ma sì, anch'io sono d'accordo con Andrea. Comunque siamo un'altra squadra rispetto alla stagione regolare. Quello è poco ma sicuro, proprio a livello di intensità, di voglia. Da quando sono iniziati i play-off è venuta fuori la squadra che tutti dicevano inizio l'anno. Cioè è stato un cambio, ma anche a livello di allenamento. Cioè è stato proprio bello, un bel momento. E poi basta vedere, come dicevi te, comunque la BMS, quante sono state? Quattro partite? Ho preso 30 punti in tre. Ho perso di 30, è stata sotto anche di 40 con 100, che comunque è stata la quarta classificata nel girone A, nel girone B. Quindi sì, è vero, i valori magari di loro sono stati superiori. Poi comunque quello che a me fa piacere tanto è che Piacenza sono nove senior. Noi comunque giochiamo con tre under che stanno facendo vedere il vero valore che hanno perché comunque anche Andrea Bianchi, che era un mese e mezzo, che non menteva piede in campo, ha giocato 20 minuti di qualità contro Piacenza al gala 4. Non ci scodiamo verso, cioè queste sono squadre fatte di 10 senior. Noi siamo con tre under, tre ragazzi che hanno un valore assoluto e l'hanno dimostrato. Lo ripeto, però Samolino, nonostante l'infortunio del centro titolare, nonostante il capitano si rompe il legamento a partita in corso, ha perso di uno, gara 4 a Piacenza. Cioè noi, ripeto, secondo me più di tanto, cioè così, è stata proprio come ha detto Andrea, ce l'abbiamo vista portata via questa partita. Quindi niente, forza e domani ci spende a rivincere. Prima di vedere il servizio delle parole di Ghizinardi, tocchiamo un altro tasto, che è quello, ne parlavamo prima i microfoni spenti, una serie equilibrata, una serie testa a testa, in cui c'è una squadra che parla sempre. E allora vi chiedo, quanto vi dà fastidio da avversari che Soragna, Bruni, Sanguinetti, Steffè, cioè probabilmente quando escono dal tunnel gli arbitri, gli ufficiari di campo iniziano a parlare. Io ne ho viste, penso, mille di partite della Paffoni in 18 anni, della Fulgor. Ne ho viste tantissime altre partite di palacanestro a tutti i livelli. E io non ho mai visto, l'ho detto in telecronica, una squadra che parla con gli arbitri come Piacenza. Non l'ho mai vista. Quindi penso che sia anche un po' stucchevole e domani magari, glielo ho detto a Gizzi Nardi prima di gara 4, prima che cominci la partita, basta, non si può parlare tutta la partita. Eh, dai, finché glielo concedono, chi glielo fa fa? Gara 4, cioè gli ultimi possessi, il fischietto è finito in tribuna. Quindi le ragioni erano loro. È chiaro che comunque sentire pressante tutta la partita, perché come hai detto te, è vero, tutta la partita, sono lì a lamentarsi, contatti, perché comunque, rispetto a loro giochiamo un basket più fisico, un basket più di inerzia, di voglia, quindi magari loro che puntano sulla tecnica, su qualche principio diverso, cioè hanno subito, come hanno subito le prime due gare in casa, che comunque quando è alzata l'intensità difensiva o è anche in attacco, se non si mettevano a zona, prendevano 20 punti, cioè erano sotto 20. È chiaro che sentirli parlare è tutto, cioè dà fastidio più di quello, però che puoi fare? Cioè comunque gli arbitri tendono a dar ragione, perché se parla fratto in un modo si piglia il tecnico, se Soragna va lì e tutto, cioè ancora, cioè in gara 4 è stato camoroso, cioè veramente ha fatto, sembrava lui l'arbitro, era l'arbitro il giocatore, però è Soragna, Soragna può parlare, ripeto, fratto se parla è un cretino, è un tecnico, quindi niente, dobbiamo andare anche contro questo, via, purtroppo ci possiamo far poco. Ti ha fatto arrabbiare anche il tuo amico Bruni, però, domenica, eh? Non ci siamo parlati per un giorno, ieri gli ho riscritto, gli ho detto, gli ho mandato una foto, e poi gli ho detto, siamo amici, però mercoledì pende gli schiaffi, quindi. C'è stato quel mismatch clamoroso, Bruni è svenuto, con Teccheri a un metro, quarto fallo, fallo in attacco, e palla persa. André? Ma sì, sono d'accordo, nel senso, anch'io non ho mai visto una squadra parlare così tanto. Sì, come diceva Francia, è vero che, sai, Soragna se lo può permettere per tutto il passato che ha avuto, per la storia della palacanestro e che ha fatto, però io la vedo in un'altra chiave di lettura, nel senso, secondo me, Piacenza pensava di giocare contro una squadra e dargli 4-0, 3-0 facile, quindi nel momento in cui hanno visto che di fronte avevano dei giocatori con il sangue agli occhi, che li hanno massacrati per quattro partite, se l'è un po' fatta sotto, e quindi è incominciato a lamentarsi, a parlare con gli arbitri. Da questo punto di vista, penso che sia, tra virgolette, un vantaggio nostro, perché noi comunque abbiamo sempre mantenuto la calma, la testa e la concentrazione sul campo, senza badare ai fischi, i corretti o non corretti degli arbitri. Dobbiamo continuare su questa lunghezza d'onda e mettere a tacere tutti quanti domani. Messaggio chiarissimo, allora ci vediamo il servizio relativo alla sconfitta di un punto in gara 4. Domenica a Piacenza. Si deciderà alla quinta la finalista tra Paffoni e Piacenza. La Beckerin, infatti, ha vinto gara 4, 66 a 65. Le speranze di chiudere i conti della Paffoni si sono fermate sulla stoppata regolare di Magrini, sull'ultimo possesso, sulla tripla di Simoncellit. Una Paffoni che anche questa sera ha giocato un'ottima partita, priva di Corral, che ha accusato un risentimento e si spera di poterlo recuperare per gara 5 e con Gurini in panchina nel secondo tempo, probabile rottura al dito per lui. Omenia ha giocato la classica partita tutto cuore, trascinata da Alex Simoncelli, un mattatore nel terzo quarto, alla fine 20 i punti per lui e da Arrigoni sensazionale, specialmente nel corso del primo tempo. La partita invece per Piacenza l'hanno vinta Samoggia e Banti, che nel momento del bisogno hanno trovato punti e canestri davvero fondamentali in ottica bianco-rossa. Una partita che si era aperta con l'immediato break rosso-verde 11 a 2 dopo 4 minuti con un Arrigoni, davvero superstar. Addirittura con la tripla di Simoncellit il più 10 sul 16 a 6. Nel finale di primo quarto Piacenza ha cominciato a mettere le cose a posto difensivamente e trovando i primi punti in attacco con Samoggia, come dicevamo, uno dei fattori del match. A cavallo di primo e secondo quarto il break dei padroni di casa, un break di 19 a 4 che ha consentito con la tripla di Sanguinetti di portare la Bacchery sul 25 a 20 che è diventato poco dopo 30 a 23. All'intervallo lungo, più 6 per i padroni di casa, 32 a 26. La ripresa si apre nel segno della Paffoni che piazza un 9 a 2 di parziale che significa sorpasso sul 35 a 34 con un grande Arrigoni. Come è stata gara 1, come è stata gara 2, come è stata gara 3, sale il livello dei contatti, sale il nervosismo, ci sono due antisportivi, uno per parte. La Paffoni prova a scappare con la tripla di Simoncellit del 47 a 42 ma Soragna rintuzza la fuga rosso-verde, 50-51 al trentesimo, ultimo quarto di rara intensità a livello emotivo, sorpassi e controsorpassi. Gasparin mette 8 punti che significano per la Paffoni avere 3 punti di vantaggio nella finale però. Banti e Samoggia riportano avanti di 1 a Piacenza, l'ultimo tiro lo prende Simoncelli, stoppato da Magrini, si va a gara 5, mercoledì alle 20.30. Prima di sentirci le parole di Ghizinardi e anche le paginele di gara 4, ti chiedo, a livello di gruppo, due sconfitte così, l'abbiamo capito, c'è tanto rammarico per come sono arrivate, come si metabolizzano e come è ripartito il gruppo dopo questi due KO in vista di gara 5, Francesco? Si metabolizzano male, male perché la notte non si dorme, in pullman non si parla, perché comunque, ripeto, avessimo preso 20 punti, non ci abbiamo messo mano tutta la partita, uno se ne fa una ragione, sono più forti, ma più forti non sono. Abbiamo perso per un punto gara 4, secondo me, ripeto, come ho già detto prima, che era tutto a favore nostro, a merito nostro, solo che si guarda avanti, si guarda avanti a una gara 5 in casa, si guarda avanti a una partita che, in un campo dove ancora il playoff non abbiamo perso, comunque dove facciamo valere la nostra forza, i nostri punti di forza, e si cerca di minimizzare gli errori, perché purtroppo abbiamo perso per piccole cose, come abbiamo detto prima, i punti non fatti in tre attacchi, quattro attacchi, quando eravamo sopra uno in gara 3, l'ultima difesa in gara 4, purtroppo è questo, è il brutto, è anche il bello, dei playoff, perché comunque abbiamo la fortuna di avere il fattore campo in gara 5, che è tanta roba, tanta roba, quindi, niente, siamo sotto, stamattina ci siamo allenati, ci siamo allenati bene, nel gruppo sta bene, siamo consapevoli di poter vincere, perché comunque abbiamo dato dimostrazione che anche senza la sfortuna che ci persegue da tutto l'anno, senza Corral, con Gura o senza un dito, cioè comunque abbiamo perso di uno, di uno, quindi domani, come si è detto prima, vale tutto e si porta a casa. Bravo Francesco, Andrea? Sicuramente il fatto di giocare ogni due giorni ti dà la forza mentale di lasciarti quello che è passato alle spalle. Io penso che questo gruppo abbia la consapevolezza di potercela fare, nel senso che dopo gara 4, nello spogliatoio, si percepiva proprio il fatto che tutti quanti erano consapevoli del fatto che meritavamo di portarla a casa e ci è sfuggita dalle mani veramente per degli episodi sfortunati. Quindi siamo mentalmente pronti, tranquilli e carichi a dare il 110% domani sera. Ghizinardi e le pagelle, andiamo dunque a sentirci le parole del coach e i voti. Non mi ricordo cosa vi ho dato. Abbiamo fatto una partita ottima secondo me come intensità, come agonismo, a tratti anche come qualità, nonostante abbiamo in campo dei quintetti abbastanza come dire, d'emergenza, perché sono stati con fuori tutti i tre lunghi, ce ne è rimasto un quattro e ci siamo un po' adattati un po' così, eppure non abbiamo mollato. Leggo che abbiamo preso pure tre rimbalzi più di loro e questo mi conforta perché vuol dire che non abbiamo mollato mai. Peccato, forse un fallo in più si poteva fare sulle penetrazioni subite che hanno aperto i loro tre punti, però insomma ai ragazzi non si può rimproverare nulla, hanno fatto una gran partita, ci è mancato un pizzico di fortuna perché loro fanno due canestre difficili, perché Leonzio fa un canestre difficile dall'angolo su un close out e Banti fa un canestro forse anche in infrazione di passi, perché con la reverse lì mi piace vederla, ma insomma poi sai che degli arbitri non si parla, però va bene così. Adesso gara 5, si resetta tutto, si parte da 0 a 0, cosa può fare la differenza? L'energia mentale, io e la mia squadra sono stati bravi perché tutto l'anno in emergenza hanno combattuto e non hanno mai molato un centimetro e anche stasera non l'hanno fatto, se noi riusciamo ancora una volta a dire va bene ancora una volta a non farci cadere le braccia, a guardarci negli occhi e pensare veramente, non a parole, retoricamente, pensare che veramente ci meritiamo di andare in finale perché secondo me ce lo meritiamo e allora secondo me ce la facciamo. L'importante è avere energia positiva da mettere sul campo mercoledì e poi quello che sarà, sarà ma sono sicuro che da questo punto di vista daremo il 101%. Corral proverà a giocare ovviamente? Si, si, proveremo a giocare tutti, insomma oggi ne avevamo due Malconci, Corral e Giacomo ma ovviamente è un dentro a fuori quindi anche con le stampelle anche un minimo un secondo, due secondi per un rimbalzo, per un tiro libero tutti sono pronti e sicuramente daremo il 100%. Simoncelli 7 stoppato sull'ultimo tiro ma nel terzo quarto aveva giganteggiato spiegando pallacanestro con 14 punti segnati Gasparin 6 e mezzo si accende ad intermittenza due sue triple sembravano aver propiziato l'allungo buono Gurini 5 e mezzo parte con una tripla poi cala e nel secondo tempo è in panchina Arrigoni 7 e mezzo il migliore devastante in attacco e a rimbalzo ne mette 18 peccato per i falli Fratto 6 e mezzo lotta come sempre segna il canestro che dà il più 1 a 30 secondi dalla fine Bianchi 6 non sfigura 4 punti Villa 6 meno preciso al tiro rispetto a gara 3 Perez 6 una tripla pesante una buona pressione difensiva Daniello 5 e mezzo non riesce ad incidere al pallabattisti è un altro giocatore Andrea 5 e mezzo ti ho dato a Francesco mi sembra 6 e mezzo o 7 non me lo ricordo e nel giudizio ho detto in casa è un giocatore in trasferta un altro è vero e da cosa dipende? quindi si può essere anche ottimista in vista di domani ma guarda sicuramente la differenza l'ho notata anch'io nel senso che gara 1 e gara 2 facevo canestro gara 3 e gara 4 anche se ho una vasca da bagno davanti non avrei segnato sono personalmente comunque contento nonostante il tuo 5 e mezzo della prestazione perché comunque mi sono ritrovato a giocare metà partita da 4 e sono riuscito tranquillamente a marcare dall'1 al 5 quindi almeno il mio apporto l'ho dato e di questo sono contento il nuovo Lebron James che può marcare l'1 al 2 al 3 al 4 al 5 c'è la Paffone della Agnella Francesco è perfetto si allunga la carriera ha detti 10 anni e quindi no comunque anch'io facciamo penso un po' tutti autocritica anch'io faccio autocritica per conto mio perché comunque tanti canestri ma alla fine è giusto che chi ha portato un po' avanti la baracca durante l'anno si prenda un po' più possesso un po' di tiro quindi noi facciamo un po' più da contorno nelle situazioni in cui abbiamo la possibilità di far canestro a volte vediamo magari la palla che entra e esce un tiro che magari in allenamento fai 10 volte non entra un po' di rammarico c'è un po' di rammarico c'è poi magari in casa va un po' meglio fuori va così però penso che posso parlare per entrambi quando la palla diciamo è sempre contata nelle partite che abbiamo portato via ma anche in quelle che abbiamo perso comunque il pallone manda la mano nostra fortunatamente il pallone è andato dentro è chiaro che sarebbe meglio qualche canestino in più però se non riusciamo in quel campo lì siamo pur sicuri che dall'altra parte cioè si difende per tre quello siete in 10 domani Gurini ci sarà da verificare la disponibilità o meno di Diego Corral allora vi chiedo questo c'è un tuo compagno su cui sei pronto a scommettere e dici indipendentemente da come andare la partita dico ok io so già che lui domani fa la partita da 10 io a fine gara 4 ho fatto complimenti a a Daniel Perez perché comunque è un ragazzo che si è trovato in una realtà non semplice a metà anno io l'ho conosciuto anche anni passati ci ho giocato contro e ha avuto difficoltà innegabile lui è il primo ad ammetterlo però ho fatto complimenti a lui per gara 4 non tanto perché comunque ha avuto la personalità di prendere un tiro da tre e sbagliarlo tirarlo dopo a far canestro in un momento importante ma più che altro perché ha dato un apporto in difesa che per noi è fondamentale e per quanto riguarda il discorso di domani io sono sicuro di tutti partendo vabbè da Alex e Gas che non c'è nemmeno da dirlo da Arro uguale e poi noi tutti che comunque facciamo da contorno saremo cioè se c'è l'ultimo tiro da prenderlo lo piglio io cioè non c'è problema se c'è la prende Andre sono sicuro che comunque Andre sarà nella condizione migliore per poter fare il canestro piena fiducia in tutti in Francesco Villa che comunque ha fatto vedere che quando entra il primo poi ne entrava alcun altro quindi a testa alta più che mai posso prendere anche io il tiro senza paura assolutamente io sono perfettamente d'accordo con Franci nel senso che è una partita da dentro fuori quindi penso che chiunque entrerà in canale campo sarà concentrato e darà veramente il massimo per per portare il suo mattoncino alla causa come ha detto Franci è ovvio che avendo più possessi sia Gas che Alex sono i nostri fattori principali in attacco insieme a Darro insieme a Aguro e se rientra Diego però anche anche gli altri sicuramente entreranno con la mentalità giusta avranno tutti la mentalità giusta perché comunque è una partita importante è una partita decisiva e non ci si può permettere appunto di entrare in campo con la testa altrove vi faccio l'ultima domanda tutte e due che è questa doppia è la partita più importante della vostra carriera sì o no come si vivono tre domande allora è la partita più importante della vostra carriera come si vivono le ultime ore prima di gara 5 lo ha detto prima Francesco quanto può essere importante e decisivo il fatto che si gioca a Verbagna allora senza ombra di dubbio senza ombra di dubbio è la partita più importante della mia carriera perché io non sono mai arrivato così vicino a una finale playoff e la voglio a tutti i costi quindi è importante piuttosto di perdere mi tagliare un braccio perché non non esiste non voglio non voglio perdere l'avvicinamento alla partita diciamo che io ho una smagna una voglia di giocare che è fuori dal comune non vedo l'ora di essere mercoledì in campo alle otto e mezza per giocare sicuramente il fattore campo è importante perché secondo me fa da sesto uomo in campo poi come è stato durante tutti i playoff sempre pieno sempre una bolgia ecco ci darà sicuramente con la mano in più mi sa che stanotte ti sveglia perché dormite insieme partita importante sicuramente fortunatamente ho avuto l'occasione già di giocare una finale playoff persa per quanto è andata male però è una partita che sento che sento tanto perché comunque come ha detto Andre siamo a un passo dalla finale siamo a un passo alla finale e firmerei tutti gli anni per arrivare a un passo alla finale mi ricordo quando mi chiamò Marcello in estate che io mi lamentavo di aver finito i playoff il 5 maggio l'anno scorso domani quanti abbiamo? 23? domani siamo a 23 e sicuramente almeno a giugno sarebbe veramente bello arrivarci e si prepara ci si arriva come ha detto Andre poi insomma anche caratterialmente siamo molto simili cioè anche quando siamo in campo si vede che comunque c'è sempre per la voglia di far qualcosa in più quindi smania io già gara 4 a pranzo un piatto di pasto ho fatto una fatica a mangiarlo perché ho detto no quindi domani sarà poi all'8 e mezzo sarà un bel pomeriggio di playstation domani e poi come ho detto prima in casa la nostra è fondamentale comunque quando è l'ultima che abbiamo perso un trovarese mi pare quanti sono 4 mesi 5 mesi quindi l'unica cosa che mi sento di dire faccio un appello ai tifosi alle persone che di andare un po' più dietro ai ragazzi della curva perché comunque si fanno sempre in 10 stanno sempre lì e magari tante volte noi dal campo percepiamo che comunque c'è un po' di distacco rispetto a loro quindi sarebbe bello magari quando loro si fanno sentire come sempre a belli forti che il pubblico gli vada dietro anche perché se si perde domani si va a casa quindi forza tutti insieme ai nostri telespettori lascio il dubbio se dorme di meno questa notte Francesco Fratto Andrea Ragiello o io ma non per la bambina non per la nuova per la nascitura perché insomma la sentiamo un po' tutti grazie Andrea Ragiello grazie Andre grazie a voi grazie Francesco grazie a voi a domani Baschettano torna martedì prossimo non lo so anzi Baschettano martedì prossimo non c'è non c'è perché c'è cara 2 della finale quindi speriamo ciao 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 Grazie per la visione